Ciao a tutti e bentornati sul canale JoyGiochi, quest'oggi il video dedicato al Modena Play, in particolare vi parlerò di tutti i giochi che ho provato all'incirca e della mia top 5 di questi giochi, di cui avete già un piccolo indizio sulla mia sinistra qua dove vedete il mio bottino del Modena Play, solamente due giochi però adesso ne parliamo, come vedete quest'oggi non indosso la maglia di JoyGiochi ma indosso la maglia di Dice & Roll che da oggi vorrei sponsorizzare nei miei video in quanto è un sito, se non lo conoscete, per chi non lo conosce poi andiamo direttamente al sodo ma concedetemi una piccola parentesi su Dice & Roll che è un sito al quale ci tengo molto, che abbiamo lanciato in collaborazione con i ragazzi di Board Game Italia è un nuovo mercatino di giochi da tavolo, noi siamo molto orgogliosi di questo progetto, per noi i mercatini Facebook o gruppi vari, Whatsapp, Telegram, erano molto confusionari non si riusciva bene mai a trovare il gioco che si cercava effettivamente ma era un po' casual, tu ti ritrovavi a vedere una lista di giochi e magari beccavi quello che ti interessava per puro caso, su questo sito potete cercare i giochi che volete per nome filtrandoli in base a categorie, meccaniche anche in base al luogo in cui vi trovate, gli eventi, veramente tante tante funzioni, potete crearvi una wishlist con i giochi che volete per vedere facilmente quando qualcuno li mette in vendita, ovviamente potete pubblicare i vostri annunci, quindi se ancora non lo conoscete date un'occhiata a diceandroll.it, il sito creato da noi giocatori per i giocatori, completamente gratuito, fatto solamente quindi per passione ci tenevo molto a questo. Ora andiamo dritti al sodo sui giochi che ho provato al Modena Play Allora direi di partire subito con la mia top 5, poi vi parlerò di un gioco in particolare che mi ha deluso mi ha deluso molto, è stata proprio per me la delusione del Play e poi farò qualche altra menzione Allora, al numero 5 troviamo Ark Nova, questo gioco di cui ovviamente si sente parlare tantissimo che era uno dei giochi più attesi per il Play e devo dire che mi è piaciuto, mi è piaciuto molto in tanti lo paragonano a Terraforming Mars, sì e no, ci sono ovviamente degli elementi in comune principalmente le carte, quindi il cercare di giocare le carte facendo concatenare i simboli giusti per creare combo alla stessa maniera di Terraforming Mars, però qui in più abbiamo anche tutto un piazzamento tessere sulla propria plancia c'è il piazzamento lavoratori, ci sono un po' un mix di meccaniche però ben amalgamate tra loro questo Ark Nova mi ha abbastanza convinto, l'unica cosa, ma questo è una cosa mia che ho anche proprio in Terraforming Mars che non mi convince del tutto, è il discorso delle carte che tutti peschiamo da questo mazzo enorme di carte e quindi ti devi un po' adattare a quello che ti capita ecco, quindi questa è l'unica piccola cosa, però per il resto Ark Nova promosso assolutamente al quarto posto c'è Inis Big Box di Studio Supernova gioco che in realtà è un gioco a mio avviso molto leggero, mascherato da giocone nel senso questo scatolona con le miniature, materiali bellissimi, carte enormi però alla fine si tratta di un semplice gioco di maggioranze, appunto dove si giocano le carte per fare le azioni, un po' alla il grande, per dire, chiaramente sono due giochi diversi però come tipologia di giochi si avvicina molto a un gioco del genere, quindi veloce turni rapidi, molto semplici a livello di regole, giochi la carta, fai l'azione si tratta di spostare miniature da un territorio all'altro per cercare di conquistare più territori possibili avere la maggioranza appunto in quei territori tramite l'uso delle carte quindi mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, devo dire, molto 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 anche qui c'è la casualità delle carte, però una volta che si conoscono il mazzo è sempre lo stesso c'è il draft tra i giocatori ogni turno, si fa un draft delle carte e poi quello ti va a formare la tua mano, delle azioni che poi farai quindi magari alla prima partita può risultare un po' confusionario nel senso che può sembrare di non avere bene il controllo della situazione ma perché non si conoscono bene le carte? una volta che uno inizia a conoscere bene tutto il mazzo, anche perché è piccolo il mazzo non sono tante carte, a quel punto lì proprio sai le carte che ci sono, che usciranno che sono uscite, perché le vedi tutte col draft anche perché il draft è molto particolare, nel senso che quando hai scelto una carta la puoi anche riscartare dopo, ovvero il primo turno terrai una carta il secondo giro di draft terrai due carte, il terzo giro di draft terrai tre carte queste tre carte le scegli tra le due che ti eri scelto precedentemente e quelle che ti sono capitate in mano quindi le due che ti eri scelto precedentemente le puoi anche togliere tutte e due e prenderne altre tre tra quelle che si sono capitate in mano è un draft molto particolare che mi è piaciuto tanto, devo dire quindi Inis Big Box, è piaciuto tantissimo peccato che per il prezzo che è veramente elevato perché ha dei materiali assurdi bello, devo dire, bello però per il gioco che è, poteva bastare anche un'edizione un po' più piccolina magari con i cubetti al posto delle miniature e che costasse molto meno magari fare la deluxe così com'è e poi una versione un po' più abbordabile, diciamo è un peccato perché il gioco è un gioco veloce quasi un filler mi verrebbe da dire ora, io sono abituato a giochi molto tosti quindi per me è un filler, per qualcuno potrebbero essere un filler ma insomma è un gioco, diciamo, medio-leggero, ecco quindi il costo è elevato per il tipo di gioco che è però il gioco merita tantissimo e ha dei materiali eccezionali al terzo posto c'è Anunnaki gioco che mi è piaciuto tantissimo di cui se ne sente parlare ormai per via della campagna Kickstarter che adesso è ripartita bello, devo dire, bello ero curiosissimo di provarlo e mi ha convinto mi ha convinto bella la selezione delle azioni sulla propria plancia tutte le meccaniche sono veramente ben amalgamate tra loro è completamente deterministico ci sono chiaramente segnalini per le battaglie messi casualmente sui pianeti ma diciamo che ci sono dei valori fissi quindi tu sai che quella forza lì può essere presa tra, tipo, ora non ricordo fate conto, 2 e 5 quindi vi dovete regolare è l'unico, mi sembra proprio l'unico elemento nascosto che c'è per il resto è tutto visibile bello anche il sistema delle carte per il combattimento bello che ti puoi espandere sotto vari aspetti in base al proprio potere è asimmetrico ognuno ha poteri differenti in base a quello si può creare la sua strategia ci sono tante cose ben amalgamate tra loro assolutamente promosso e sicuramente sarà un futuro acquisto al secondo posto c'è Verrix questo gioco è quello che mi ha stupito di più perché non è che se ne parli tantissimo di questo gioco sono andato lì, l'ho provato perché comunque mi ispirava e mi ha colpito veramente bellissimo infatti ne ho qui una copia il gioco uscirà se non sbaglio intorno ad agosto è completamente in italiano gli autori sono italiani un gioco in cui ognuno ha una propria fazione una tribù celtica dedicata a una specialità in particolare per esempio il misticismo oppure la battaglia la razzia il commercio ognuno ha un'abilità particolare ma poi singolarmente comunque ti puoi evolvere anche verso altri aspetti cioè tu puoi partire con l'abilità mistica ma poi puoi acquisire altre abilità per esempio concentrarti più sul combattimento sul commercio insomma come vuoi però ti indirizza diciamo avere una abilità di partenza e qui c'è un po' di tutto c'è la gestione delle risorse molto particolare che non c'è una moneta ma che le risorse hanno un valore quindi c'è il baratto puoi commerciare con gli altri giocatori scambiando risorse di pari valore c'è il combattimento molto bello che i giocatori possono supportarti e schierarsi insieme a te o contro di te in combattimento quindi si possono creare anche delle situazioni di alleanze ad esempio bello mi è piaciuto tutto di questo gioco devo dire infatti non vedo l'ora di riprovarlo ne parleremo sicuramente prossimamente in un video dedicato quindi approfondiremo questo titolo al primo posto c'è questo gioco qua che è Carnegie 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 non lo so come pronunciarlo comunque è questo qua che è uno di quelli di cui si parla molto quindi io mi aspettavo molto da questo gioco qua l'ho provato e sono rimasto colpito tantissimo da quanto sia bello proprio le meccaniche cioè meccanicamente proprio mi ha colpito cioè ha questa selezione delle azioni per me stupenda dove si attivano gli eventi mi ha ricordato per certi aspetti un po' Hank quel discorso lì dell'azione con l'evento però poi c'è questa meccanica alla Puerto Rico dove tu selezioni l'azione e tutti gli altri fanno la stessa azione quindi devi stare attento a selezionare l'azione che avvantaggia te ma anche che non avvantaggia troppo gli altri e questa cosa è bellissima oltretutto è molto veloce perché non c'è downtime perché ognuno fa l'azione e poi la rifanno tutti gli altri quindi non c'è attesa tra un turno e l'altro il gioco scorre molto bene e tutte queste meccaniche sono oliate perfettamente quindi le azioni il movimento sulla plancia degli omini che vanno a selezionare poi nei dipartimenti le azioni che vuoi fare la rete perché c'è anche la mappa dove devi crearti una rete collegando le varie città ci sono tantissimi elementi che si concatenano tra loro perfettamente e questo gioco mi ha colpito tantissimo ero indeciso se mettere questo o Verix al primo posto devo dire che è stata dura perché sono i due giochi che mi sono piaciuti di più infatti sono tutti e due qua come vedete ho scelto di mettere al primo posto Carnegie lo chiamo così perdonatemi se non è la pronuncia corretta perché proprio ha delle meccaniche che mi sono piaciute tantissimo proprio mi ha colpito davvero bello e quindi questa era la mia top 5 parliamo di altri giochi che ho provato allora ho provato Pax Vikings che devo dire all'inizio non mi ha convinto tantissimo il primo turno in particolare non mi stava convincendo cioè mi volevo proprio alzare e dire la verità dal tavolo al secondo turno mi ha iniziato a piacere un po' di più al terzo turno ancora di più poi mi sono fermato perché chiaramente lì non puoi giocare una partita completa quindi lo voglio riprovare la cosa che non mi ha convinto che lì per lì mi annoiava era l'attesa veramente la lunga attesa tra un turno e l'altro non so se è perché eravamo tutti alle prime armi chiaramente ma ogni giocatore fa tutte le sue azioni e poi tutta la sequenza di gioco e poi passa la mano all'altro giocatore che rifà tutta la sequenza quindi azioni ripristino tutta la sequenza poi passa un altro giocatore che rifà tutto prima che ritocchi a te e ne passa di tempo quindi questa è l'unica cosa che non mi ha convinto però lo voglio riprovare perché il gioco poi alla fine aveva delle cose molto interessanti poi ho giocato anche a Micro Macro un gioco molto leggero dove devi risolvere dei casi individuando su una mappa molto grande dei disegni e mi è piaciuto veramente tanto divertentissimo chiaramente gioco leggero bello ve lo consiglio Micro Macro provatelo ho provato poi Hidden Leaders ma anche questo qua non mi ha convinto molto devo dire l'ho trovato un po' troppo caotico nel senso poco controllabile devi giocare queste carte per far salire dei segnalini su dei tracciati e poi ci sono delle connessioni di vittoria che si riesce a posizionare questi segnalini in un determinato modo sui tracciati riesce a vincere la partita quindi è tutto uno spostare segnalini tra i giocatori giocando carte però l'ho trovato un po' caotico nel senso giochi una carta lo sposti poi quell'altro ne gioca un altro lo riporta indietro e poi alla fine si decide tutto quando uno gioca l'ultima carta che conclude la partita si vede dove sono questi segnalini non mi ha convinto molto non so se è perché l'abbiamo giocato in 6 e quindi in 6 è veramente tanto confusionario e poco controllabile forse in meno giocatori potrebbe essere meglio ecco ma anche questo vedremo magari lo riproverò e poi come ultima cosa vi parlo della mia delusione del Modena Play ora so che riceverò magari anche critiche su questo per quello che vi sto per dire perché vi parlerò di un gioco che in molti addirittura considerano proprio il gioco migliore provato al Modena Play e vi parlo di Bitoku allora Bitoku per me è stata una delusione io avevo tantissima voglia di provarlo perché mi ispirava tantissimo ne avevo sentito parlare molto ovviamente anche bene mi sono messo al tavolo ho ascoltato la spiegazione spiegazione un po' tosta insomma tabellone ormai si sa lo dicono tutti lì per lì a primo impatto molto caotico la grafica è bella però diciamo alla prima partita ti spiazza un po' poi quando capisci come è organizzato quindi tutte le varie sezioni in realtà il problema diciamo può essere anche superato però questo gioco qua non mi ha convinto nel senso che è una cozzaglia di roba che poi giocandoci magari si capisci come concatenare le cose capisci che è tutto ben collegato eh non dico questo però è un mix di roba già vista comunque non mi ha dato niente di nuovo non mi ha aggiunto niente cioè non mi ha spinto a rigiocarlo a comprarlo è un'insalatona di punti che io non ho niente contro il salatone di punti però ecco non ha niente di non so mi ha lasciato un po' un po' così un po' con l'amaro in bocca mi aspettavo forse perché avevo altissime aspettative e mi sono ritrovato davanti a un gioco ma così niente di che insomma ecco questa è la mia impressione è un parere personale ovviamente come ho già detto so che molti lo considerano il gioco migliore provato in fiera quindi sono gusti chiaramente non vi sto qui a dire non provatelo fa schifo vi dico il mio parere e a me ha deluso Bitoku ecco con questo vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti